Faccio lezzo, così poi non volete il replay. E allora abbiamo deciso di chiamarla festa. È una festa oggi, non è un'altra cosa. È una festa difficile, perché è in un momento particolarmente difficile per tutte le persone, per chi lavora nelle aziende, per chi vive a difensione, per chi cerca di lavoro con tanti giovani, il vestito della festa. Simbologicamente è sempre stato un riconoscimento forte di se stessi e di come guardi il mondo. Partiamo dall'inaugurazione che oggi facciamo della Camera del Lavoro di Pavia per la CGL. È sempre un grande risultato quando una sede si rinnova e quando diventa più aperta al territorio, a rapporto con le persone, diventa accogliente. Ancora più in una stagione come questa, dove le nostre sedi vedono migliaia di persone che ogni giorno vengono a chiedere un'informazione, una risposta, spesso una rassicurazione, perché al di là dell'ottimismo che viene manifestato, continuiamo ad attraversare una stagione di grandissima disoccupazione, di grandissima difficoltà e tante persone hanno bisogno di risposte. Quando io sento dire che il problema è che la CGL si trova iscritti dei pensionati, l'irritazione è profonda, non perché abbia ogni giorno bisogno di ricordare qual è la composizione della nostra organizzazione, ma perché non c'è rispetto per chi ha fatto la storia di questo personaggio. Siamo esattamente l'antitesi di un mondo in cui invece si pensa che tutto è solo individualizzato, che solo i singoli possono diventare forti e ovviamente se pensi che sia solo il singolo che diventa forte, stai pensando a quanti deboli schiacci in quell'occasione. Anche oggi parleremo della necessità che non si facciano colpi di mano sulla riforma della scuola, si assumano da un lato i precari ma si pensi davvero a una buona scuola, perché alla nuova generazione dobbiamo dargli il messaggio che loro saranno più forti per affrontare un mondo che cambia in continuazione. C'è una cosa che in queste ore ci fa dire anche cose un po' secche, è perché stiamo assistendo, basta guardare le prime pagine dei giornali di ieri e di oggi, al fatto che si usa la stabilizzazione di 100.000 lavoratori come una clava per rompere il mondo della scuola, non perché si abbia interesse a quello straordinario bene essenziale collettivo che è l'istruzione e la stabilizzazione, ma bisogna rompere quel fronte che unitariamente ha proposto, unitariamente e vastamente ha proposto un'idea di scuola che fosse appunto il futuro dei ragazzi e delle ragazze e non l'affermazione di modelli di leadership. Molte delle nostre Camere del Lavoro, anche questa Camera del Lavoro, erano case del fascio, erano le sedi dei sindacati corporativi voluti dal fascismo, io considero un grandissimo risultato alla libertà di questo Paese che quelle case siano invece diventate le sedi delle Camere del del Lavoro e del Sedicino.